A CoS Energia si espande rendendo ancora più incisiva la sua presenza sul territorio. In occasione della festa del quartiere Cristo ad Alessandria è stato inaugurato un nuovo punto vendita in corso Acqui con la presenza dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Alessandria Giovanni Barosini che ha tagliato il nastro inaugurale. Ci spiega l'importanza di questa nuova presenza la responsabile Daniela Caretta. Ci siamo ingranditi e A CoS Energia ha fatto la scelta di rimanere qui in questo quartiere proprio perché è vivace, è popoloso, è vivo. A CoS Energia è un'azienda sul territorio, da sempre non a call center, il cliente che ci chiama parla direttamente con noi ed è una scelta di avere proprio un rapporto vis-a-vis con i nostri clienti. Qui in questo ufficio ci sono io, negli altri uffici ci sono i miei colleghi e al telefono rispondiamo veramente noi. Così l'utente che si rivolge agli sportelli può davvero contare su un rapporto umano fondamentale ai giorni nostri dove qualsiasi operazione è ormai affidata alla tecnologia. Gli uffici di corso Acqui saranno ora disponibili al pubblico il lunedì, il mercoledì e al venerdì dalle 9 alle 13. Il mercoledì è prevista anche un'apertura pomeridiana dalle 15 alle 19.